149esimo giorno di scuola Videodiario di Fraetina Grazie a un buon jegi jegi Tante l'assemblea di classe Complano di gente Gente seria Siamo riusciti a farlo commuovere Siamo riusciti a farlo commuovere Si ho caragnato tutta la festa Pianto come una fontana Prima è venuto tra E ho detto che l'unica cosa che abbiamo in comune E' la fontana di Tre Già che Roma è in comune la fontana di Tre Scagliotti Scaglio Siamo riusciti a farlo Il capitano Il nostro capitano della squadra di matematici Gli avvincetti Ah sei quant'è studiato Sposto, sposto, sposto E come no, come no E questo non posso sposti Mi sento che lo stiamo manodando Non ho un'altra frequenza di una volta Alciò che proprio Non ho un po' 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 Cioè Jack è pronto a prendersi la sbronza Più che lo sale Anche se non lo dice Sì sì ma Un animo che Può aspettare che i miei smorri Non sono stanzi Ah Chiudiamo il diario Della semia di classe Che fai con la selezione Ciao